Piccoli comuni alle prese con problemi di cassa, Valle Saccarda lancia l'allarme, un paese di 1500 abitanti che non può più accendere i mutui, dovendo avere dalla regione Campania oltre 520 mila euro. La mancata versibilità dei mutui che sono stati decretati dalla stessa regione con una certa puntualità e regolarità semestrale pone a noi comuni, soprattutto i piccoli comuni della nostra realtà penninica interna erpina, in grosse difficoltà di liquidità di cassa. Quindi non ci pone in una situazione di poter pagare e onorare chi in qualche modo collabora e lavora per il territorio e per il nostro comune. Sono mutui accesi dal 2008 fino al 2014, la somma pressa poco è anche un qualcosa in più rispetto ai 520 mila euro ed è un problema serissimo sia di bilancio, di pagamenti degli stipendi e per dirla tutta noi oggi ci troviamo di fronte a una programmazione, si parla tanto del programma 14-20 ma io l'ho detto anche già in alcune riunioni, incontri politici di programmazione. Noi non arriveremo a intravedere nessuna visione e sviluppo del nostro territorio, a programmare nulla se prima non ci viene dato il pane quotidiano. Sono soldi che ovviamente il comune ha anticipato, sono soldi che spettano di diritto al comune, a tutti i comuni che hanno acceso i mutui con la benedetta legge regionale 51 del 78 che è stata una legge importante per far fronte a quelle piccole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che oggi in qualche modo non possiamo assolutamente più compiere in nessun dove del nostro territorio. Quindi è un problema serio, un problema di stabilità anche sociale. Immaginate che un piccolo comune come Valle Saccarda con i suoi nuovi dipendenti iniziano ad essere nuove famiglie che non avranno più uno stipendio, oltre a tutte quelle famiglie che hanno perso anche un lavoro o giovani che sono all'interno di una famiglia che stanno cercando un lavoro. Quindi è un problema, come ho detto prima, strutturale che va risolto in tempi brevissimi. Grazie.